Ciao a tutti, novità, novità, noi qui abbiamo sempre novità, abbiamo un bellissimo kit solo per voi che abbiamo preparato noi direttivamente insieme al nostro amico Luca Berichillo di Progetto Open Tech un kit Arduino pieno di tantissime cose da fare, tantissime attività da fare un Arduino un pochino più piccolo del solito, il Nano Ever in questo caso qui che cosa ci si può fare? Di tutto, ci si può fare veramente di tutto, siamo sotto Natale che vogliamo fare sotto Natale con un Arduino secondo voi? Ma certo facciamo un albero interattivo come questo qui per esempio, vedete? Qui dietro c'è tutto quanto il circuito è nascosto e qui abbiamo fatto un bellissimo albero con le lucine che cosa ci si può fare con Arduino? Tantissime cose, le attività che noi vi proponiamo infatti sono tre partiamo dalla configurazione ad altri laboratori con altre piccole attività questo kit lo trovate, attenzione, lo trovate solo qui da noi, da Direttivamente Play Shop qui ricordiamo i nostri contatti, lo trovate anche sul nostro nuovo sito www.idattivamente.it e niente, lo trovate qui, dove lo volete andare a prendere? Qui, qui, Direttivamente, basta, ciao!